Questo quadro intitola Emersione, vuole dare idea di una fontana, di uno scroscio d'acqua visto dal basso. Nei miei lavori tendo a non rappresentare in modo figurativo il soggetto, ma colgo un particolare, cioè attraverso un dettaglio voglio rendere l'idea, dare l'idea dell'acqua, dare la sensazione, dare uno spunto a volte poetico, a volte mi interessava rendere il dinamismo dell'acqua, per questo ho utilizzato questo metallo, anche il rilievo di queste gocce è stato realizzato in modo veloce, quasi da action painting, cioè gettando gli stucchi sulla tela, poi applicando questa pellicola di metallo che gli dà il movimento dell'acqua, dà questo dinamismo. Infatti mi è stato fatto notare che i miei quadri con il metallo vanno osservati non fissamente davanti, ma se uno passeggia, si muove, i riflessi variano, anche col variare della luce cambia, perché l'incidenza della luce dà riflessi diversi, dà ombreggiature diverse, e quindi dà un movimento, una vitalità al quadro.